... Amici sportivi di Barasini Channel, un buongiorno dal nuovo comunale di Caravaggio. Finale attesissima di Coppa Italia tra Sant'Angelo e San Paolo d'Argon. Subito le formazioni. Mister della Giovanna, manna in campo, Razzetti tra i pali. Difesa 4 formata da destra e sinistra, Giupponi, Abad, Rotta e Forni. Centrocampo affidato al metronomo, il Puma, Donofrio, ai suoi lati, Roccati e Ticli. Davanti, come al solito, il capitano, l'immancabile Guarnieri con Ghidelli e Marzani. A disposizione del tecnico Cordoni, Rubino, Sabbioni, Cabrini, Trabucchi, Milese e Crisci. Il San Paolo d'Argon risponde con Catti, Morotti, Fernandez, Bentil, Salvi, Baldi, Caldara, Vannoncini, Gatta, Riccardo Maspero, Bellina. Con il mister Bonaccini in panchina ci sono Prederi, Nicastro, Vicini, Brevi, Arici, Rovaris e Colleoni. Arbitra all'incontro, il signor Oggioni di Monza. Più di mille tifosi Sant'Angiolino corsi in massa. Un vero e proprio esodo Barasino. Catti fa sul pallone, prova l'iniziativa personale. Dai vai con Marzani, Roccati, rientra ottimamente, ancora Roccati, pallone incollato ai piedi, cross di Roccati deviato. E c'è il portiere, Donofio, spara le stelle. Serve però Maspero, lancio lungo col mancino a cercare Gatta. Va Gatta sul sinistro, risposta di Razzetti. Ancora Ticli, rientra sul sinistro, il cross col mancino, Ghidelli di testa. La parata plastica di Catti e Johnny Roccati. Attenzione, Maspero sinistro, Razzetti risponde. Spazza, ma la palla ancora si pede di Maspero. Gatta, spettacolare la rovesciata col mancino. Cerca Marzani, duettano i due. Ancora Johnny Roccati, va Roccati, entra in area di regore Roccati. Col mancino, la conclusione deviata prima da Baldi. Attenzione, Maspero col sinistro, Razzetti blocca. Guarnieri, rientra col mancino. Bravo Guarnieri, cerca l'1-2 con Ticli. Ticli, ancora verso Guarnieri, fermato da Morotti con un'ottima diagonale difensiva. Sempre Riccardo Maspero, cross morbido, cercare Bentil, stacca! Gatta, palla che sfiora il palo. Il senatore di rigore, Guarnieri, Guarnieri, prova, Guarnieri di destra, mette in mezzo! Maspero, è una conclusione deviata, buoni, ottimi riflessi di Razzetti. Ticli, interviene sul pallone. Giupponi, attenzione, traversa! Traversa, un tiro cross di Giupponi, è andato a sbattere sulla traversa. Vediamo cosa inventerà. Maspero, prova la conclusione, ancora Razzetti, prontissimo! Maspero, prova direttamente la conclusione, ancora una volta deviata. Mantiene vivo il pallone. Sciabolato, cercare Ghidelli, va a terra Ghidelli! E l'arbitro avvisa un offside. Dentro il pallone, attenzione, Forni, il cross, a cercare Ghidelli! Supa! Va Roccati, prova la conclusione! Non trattiene Ghidelli, Bolide! Dietro verso Ticli, prova la botta! Si rifugia in angolo l'estremo difensore Ghidelli. Marzani, calcio d'angolo a cercare, Donofio, stacca di testa! La palla è lì! Salva! Salva! Attenzione, pericolo! Bellina! Marzani, buono il cross, verso Ghidelli! Sfiora il palo! Ricolosi! Roccati, pennello a un cross, a cercare Ghidelli! Ancora di testa! Attenzione, Colleoni entra in area di rigore, destro di Colleoni! Calcio di rigore per il Sant'Angelo, Roccati, Roccati contro Roccati! VARO Cati! VARO Cati! VARO Cati! VARO Cati! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.